Per vedersi riconosciuti gli esami sostenuti all'estero è necessario avere l'approvazione della Commissione Exchange prima della partenza. A questa regola generale fa eccezione il caso di esami per cui è stata indicata la pre-approvazione sul sito delle relazioni internazionali, come è possibile vedere in questo esempio. Grazie Le relazioni internazionali sono informate del fatto che possono essere automaticamente riconosciuti allo studente questi esami. Quando a ritorno dall'estero lo studente farà domanda di conversione non gli verrà richiesto di esibire la scheda Exchange. Se lo studente non segue questa procedura, ottenendo le approvazioni prima della partenza per la sede estera, rischia di non vedersi riconosciuti gli esami al suo ritorno. Questo indipendentemente dalla sede, dal corso, dal docente o dall'esito dell'esame sostenuto. L'indicazione quindi è di contattare comunque la Commissione Exchange prima della partenza e quindi anche in quei rari casi in cui non è possibile chiedere le approvazioni, in quanto non sono ancora disponibili i programmi dei corsi esteri, avere comunque un contatto con i membri di questa Commissione. In questo caso potrebbe essere anche utile fornire le informazioni relative agli stessi corsi, degli anni precedenti.